Ciurma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Il carrabbandonati! Sfugna! Pendaglio da forca! Impossibile che nessuno si muove! Ma sono noi, comandante! Di questa luridana! Di questa luridana! Sono, non sono il capitano! Uncino! E allora quando vi chiamo! Lasciate tutto e correte! Fate presto perché! Vi arriva tardi lo sbrano! Avanti che in età! Notizie di Peter Pan! Lo voglio vivo però! Quando lo acchiappo non so! Che cosa gli farò! Si prende il gioco di me! E fa il gradasso perché! Quei branchi di mocciosi! Lo stanno ad ascoltare! Lo credono un eroe! Ma è solo un qualunquista! Un'esifezionista! Di tutti i miei nemici! Di tutti i miei nemici! E' il più pericoloso! E' il primo della lista! Ma a voi vi sembra giusto! Durante un duello! Ha preso la mia mano! Ha preso la mia mano! L'ha dato impasto a quel dannato coccodrillo! Ma non ha bassa a liscio! Te la farò pagare! Con le mie stesse mani! Anzi col mio uncino! Lo dovrò scannare! Eccolo in vista! E' lui con tutta la banda! Meglio! Che questa volta si arredi! Non vai a prigionieri! Che basta solo un ostaggio! La ragione della vostra parte! Ricordatevi! Avanti all'arrembaggio! Avanti all'arrembaggio! Sono, non sono il capitale! Uncino! Eh! E allora avanti col corno! Cantate tutti con me! E ripetete con me! Il slogan che noi sentiamo! Tutti da ritirati in un sangue! Tutto il sistema all'oppiante! Ci esercitiamo la scuola! A far la patisciatura! Per fare il beat-oh-in! Ma cosa c'è il più male? Ma cosa c'è il più male? Ma cosa c'è il più male? Facciamo un gran casino! E al fondo la vogliamo! E' un capitale un cibo! Io sono il professore! Della rivoluzione! Della pirateria! Io sono la teoria! Il far illuminante! Ma lo capite o no? Ve lo rispiegarò! Per scuotere la gente! Non bastano i discorsi! Ci vogliono le punte! Io ero un benestante! Non mi mancava niente! Ma i soldi di papà! Ti spendo tutti qua! A combattere sul fronte! Chi si arruonerà! Un bel tatuaggio horror! Ma da quel trampolino! Io ti non vuoi firmare! Lo spacco giù nel mare! Si batte la fiacca! Si batte la fiacca eh! Io mi sacrifico per voi! E questo è il vostro ringraziamento! Avanti! Avanti, Germani! Sì! Il vostro sistema loggia! Gesù ci chiamo ma scopri! Ma la faccia di andare più paura! Ma cosa c'è il filmare? Ma cosa c'è il filmare? E ma cosa c'è il filmare? Ma cosa c'è il filmare? E lui mi asprica ... Il filmare? Ma cosa c'è il filmare? Il filmare comeerà va a viv classmates Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.